Ripetiamo insieme, la gente compra storie, la gente compra storie, la gente compra storie. Perché ti dico questo? Perché la gente compra storie, è più semplice di quanto tu puoi pensare, no? Oggi purtroppo per comunicare in maniera corretta il tuo messaggio devi veicolarlo vendendolo, quindi devi vendere il tuo messaggio, perché in un mercato pieno di informazioni, pieno di artisti, pieno di generi, pieno di persone che comunicano la loro visione, le loro cose, noi dobbiamo imparare a diventare dei venditori di noi stessi. Perché se non diventiamo capaci a venderci nei confronti chiaramente delle persone, non verremo mai, come si dice, percepiti. Questo te lo dico perché spesso anche qua la parola venditore nel mercato italiano ha un'accezione completamente negativa, ma è sbagliato perché in realtà se dobbiamo prendere anche l'estrazione, l'etimologia della parola vendita, vendere, ok? Vuol dire portare valore, ma infatti è così perché la vendita, se tu ci pensi, è un'azione che ha l'obiettivo di comunicare in maniera persuasiva un vantaggio che tu potresti avere comprando o facendo una determinata azione. Poi è chiaro che la vendita può essere utilizzata da gente con scopi poco etici e gente invece come noi che ha l'obiettivo di divulgare la propria musica o il proprio messaggio, come in questo momento sto facendo io. E una delle tecniche, è inutile che ti faccia un corso di vendita, giusto? Perché in questo momento non ci serve. Ci serve anche se pensi che non ci serve, ma adesso no. Però di base è uno degli strumenti in assoluto più potenti per vendere e creare ispirazione, ascolti e senso di appartenenza alle persone, è proprio la capacità di raccontare delle storie e nello specifico di raccontare la tua storia. Tu devi pensare che in tutti i settori in cui io mi muovo c'è la gente, i miei collaboratori che non ce la fanno più, perché loro sanno che quando io mi approccio a una nuova persona, che sia un potenziale nuovo amico, che sia un potenziale nuovo cliente, che sia un potenziale nuovo partner, io racconto sempre la mia storia in modo tale che possa ispirare, contestualizzare e fare emozionare l'altra persona, senza raccontare cazzate, dicendo semplicemente quella che è la verità, ma seguendo una scaletta che crei un ponte di relazione e di connessione con l'altra persona. E se tu ci pensi nel mondo, le storie sono quelle che hanno fatto la differenza. Se tu guardi quali sono le migliori clip musicali, tendenzialmente, quelle che raccontano una storia. Quali sono i brani più belli, quelli che raccontano una storia. Quali sono i cartoni della Disney, sono pazzeschi perché raccontano le storie. I bambini si appassionano alle storie. Quando tu devi memorizzare una cosa, la memorizzi attraverso delle storie, fai un'associazione con delle storie. Cioè, le storie rimangono impresse nella testa. La nostra capacità, quindi, è domare questa competenza. Che voglio oggi farti vedere quali sono i principi che io utilizzo, però voglio ancora andare un pochino più in profondità per farti capire quanto è importante l'applicazione di questa cosa. Tu immaginati, no? Sei all'interno di... sei con delle persone, c'è un manager che lavora con un'etichetta e ci sono due artisti. C'è uno che gli dice, va, tu di cosa suoni, cosa canti? Faccio, no, io sono... io faccio la trap. Zio, bro, faccio la trap. Ok, bene, figata. E poi invece ci sei tu che gli racconti la tua storia. Dici, guarda, io sono sempre stato appassionato fin da piccolo di... di musica, ma quando ho conosciuto il genere trap mi sono veramente innamorato perché mi porta questo valore, mi ha fatto capire questa cosa. Infatti, da quel momento, ho iniziato a focalizzarmi sul mondo del trap perché volevo, attraverso questo tipo di musica, portare il mio messaggio, la mia filosofia, che è questa, 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 e quindi ho iniziato a muovermi in questo mondo con tante difficoltà perché, ovviamente, all'inizio, sai, non sei famoso, non hai i soldi per comprare gli strumenti, quindi ho iniziato pian piano con... a risparmiare e trovare il budget per poter iniziare a comporre i primi brani e ho iniziato a comporre i primi brani fino a quando non sono arrivato fino ad oggi. Adesso, ho detto una cagata, ma la capisci che già... cioè, con una cagata è sempre meglio di quella puttanata, no, che abbiamo sentito prima. Bella zio, bella bro, niente. Non c'è nessun zio e non c'è nessun bro, devi saper raccontare la tua storia. Mi sto per infiammare, quindi un attimo che mi calmo, un secondo. Quindi, di conseguenza, quali sono i principi e le tecniche per poter raccontare correttamente la tua storia? Allora, prima cosa, non devi fare il figo, perché per quanto la gente sia appassionata delle storie, non vuole sentirsi, non vuole sapere quanto sei bravo. Alla gente sta sul cazzo il fatto che tu puoi avere successo, alla gente sta sui coglioni il fatto che tu puoi essere bravo. La gente vuole vederti soffrire, vuole sentire che tu hai avuto momenti di difficoltà quasi vicino alla morte, ma poi sei riuscito, chiaramente, a trovare una soluzione. Ricordati, questa cosa qua è importante, quindi mai raccontare una storia togliendo la parte negativa. È la parte negativa che collega la persona e crea quel senso di connessione. Quindi, prima cosa, il primo punto che devi avere è raccontare esattamente come hai conosciuto la musica. Ma io l'ho conosciuto a tre anni, bene, lo racconti, a tre anni mio padre mi ha messo la pianola e io ho iniziato a fare così, e da lì è nata la mia passione con la musica. Fantastico, cioè devi partirci dal quando hai incontrato, ok, la musica. Questa è la cosa più importante. Quando ti sei appassionato, qual è l'aneddoto che ti ha fatto appassionare al genere musicale che in questo momento stai portando avanti, ok? Quali sono le difficoltà che hai affrontato per poterti muovere all'interno di questo genere? Gli amici che ti andavano contro, la famiglia che ti dava del pazzo, il fatto che facevi i brani ma nessuno ti ascoltava, cioè racconta la tua storia con la parte negativa. Come hai risolto questo problema, quindi come sei passato da quella situazione a, ovviamente, una situazione migliore, e se non ci sei ancora passato non è un problema perché gli dici che adesso hai capito che te ne devi sbattere del giudizio degli altri, hai iniziato a fare il tuo mondo perché hai iniziato a studiare e capire come promuovere la tua musica, apro parentesi, music marketing, chiudo parentesi, e come si dice, l'ultimo punto è la tua visione nel mondo della musica e la tua visione come artista all'interno di questo contesto, quindi cosa vorresti fare, quali sono i tuoi obiettivi, qual è la tua visione, qual è la tua missione. Capisci che è meglio di bella zio bella bro, giusto no? Quindi ripetiamo insieme, come hai conosciuto la musica anche se eri piccolino, come l'aneddoto che ti ha portato al tuo genere musicale, il momento negativo, come ne sei uscito, la tua visione all'interno del contesto musicale. Ti faccio un esempio, io ripeto non sono un grandissimo artista, anzi non sono proprio un artista, perché non sono buono, però facciamo finta, ok, che io sappia, abbia imparato a suonare la chitarra, ok? L'esempio che mi viene da farti è questo qua, quindi io dico, guarda io mi sono appassionato di musica fin da piccolino, perché mi ricordo che mio papà quando facevamo le feste in famiglia suonava la chitarra e io mi divertivo un sacco a cantare e far finta di suonare, anche se tecnicamente non ero capace e quindi di conseguenza è stato veramente figa questa cosa qua, perché sono nato fondamentalmente con la musica e mi sono appassionato e mi ricordo che già da piccolino quando avevo queste chitarre elettriche in mano, è impazzivo perché mi sfogavo, mi divertivo, mi sentivo veramente a mio agio. Poi ovviamente si cresce, quindi ti appassioni, inizi a guardare i video, inizi a ascoltare diverse persone che suonano la chitarra, vedevo gli artisti di strada quando andavo a Milano ed era veramente, insomma, una figata da questo punto di vista. Poi cresco e mi sono in realtà appassionato alla chitarra classica perché la sentivo più nelle mie corde, a me piace molto questo genere musicale e quindi mi piace l'idea di poter raccontare delle storie, raccontare delle poesie attraverso questo suono e mi trasmette veramente delle vibrazioni che vanno con tutto rispetto per gli altri generi musicali ma è qualcosa di veramente più profondo per quanto mi riguarda e quindi mi sono specializzato e ho iniziato a muovermi in questo modo però come sai non si è Jimi Hendrix, non sono un chitarrista importante quindi ho provato diverse volte a muovermi in questo contesto musicale ma ho sempre ricevuto tante porte in faccia perché la gente non era aperta a ascoltare il mio brano perché oggi va di moda un altro tipo di musica e io ero un pochino più di nicchia da questo punto di vista. La svolta c'è stata perché ho capito una cosa, io stavo provando a suonare per gli altri e invece avevo capito che la cosa più importante era iniziare a suonare per me per far passare il mio messaggio, per far passare la mia filosofia di musica io volevo trasmettere messaggi attraverso la musica con l'obiettivo di aiutare le persone a svegliarsi e ribellarsi da questo contesto sociale che stiamo vivendo che porta le persone a non avere ambizione che porta le persone a non voler aver successo che porta le persone a veramente lobotomizzarsi anziché svegliarsi e iniziare a pensare fuori dagli schemi oggi quindi il mio messaggio musicale attraverso chiaramente la chitarra è quello di provare a aiutare gli italiani e le persone che vorranno ascoltare il mio genere a pensare fuori dagli schemi e svegliarsi te lo giuro, mi fa cagare come l'ho fatta però è sempre meglio di quelle porcherie che sento in giro racconta la tua storia